L'amico Manetta aveva dato in prima istanza le dimissioni che avevo accettato da assessore, dopodiché ho chiesto io per il portarsi di alcune situazioni le dimissioni da consigliere. Ora, la mia comunicazione è molto semplice perché poi Manetta ci ha fatto arrivare un suo scritto che dice con la presente, come entrerà annunciato verbalmente, sottoscritto per la Manetta, consigliere comunale, comunica che non intende dimettersi da consigliere e quindi passa dal gruppo Viva Diano, la giornata con cui era stato eletto, a un gruppo consigliare denominato Diano Può Cambiare. La speranza del Diano Può Cambiare vale per tutti e quindi va bene, accettiamo quello che Manetta c'è scritto. Io continuo a dire, e lo ripeto anche in questa occasione, che spero che poi la chiusura delle sue vicende giudiziarie porti giustizia e ceredia Manetta e mancolato. Grazie. Grazie. Grazie.